Eccoci qua con Capitan Baroni dell'Arenzano, autore del gol che ha sbloccato la partita nel primo tempo. Avete giocato l'esordio stagionale in Coppa contro il Celle Varazzo, una squadra ne ho promossa ma molto forte. Si è visto un grande Renzano soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo è uscita un po' la forza dell'avversario. La partita è finita 1-1, ha aperto tutto per il ritorno che farete domenica a Celle. Sì, abbiamo fatto il primo tempo molto bene, approcciato benissimo, stavamo bene in campo, bene fisicamente. Sì, abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo tempo sono usciti loro, forza dell'avversario che comunque sappiamo benissimo che sono costruiti per il campionato, comunque hanno fatto investimenti importanti, fattori forti. Stava la partita, non ti nego che però nel secondo tempo noi dovevamo gestire meglio, secondo me, a livello proprio tecnicamente. Abbiamo giocato molto meno e questo secondo me ci ha dato un po' di forza agli avversari e ci ha messo un po' in difficoltà. Diciamo che anche nel secondo tempo, soprattutto nel primo quarto d'ora, mi era sembrato un buon arenzano che aveva anche provato a cercare di attaccare, di raddoppiare. Poi pian pianino proprio, diciamo anche la forza fisica, la struttura dell'avversario è uscita fuori. Sì, sì, ci abbiamo provato fino alla fine ma ci proveremo sempre, sappiamo qual è la nostra mentalità e non cambierà mai. Sì, non so se è stato un po' più un calo fisico, gli avversari comunque sono stati bravi, ci hanno messo in difficoltà. Può essere un po' tutto, nel senso che comunque siamo alla prima ufficiale, ci può stare un po' tutto. E niente, ci prendiamo questo pareggio, andiamo avanti per la nostra strada e vedremo cosa dirà il campionato. In bocca al lupo a tutti voi, compresi gli avversari da parte nostra, perché il ritorno sarà una partita molto bella e molto aperta. Grazie Claudione.